Andreas, chiamato da tutti Andy, nasce in Svizzera il 7 settembre del 1964. Non ha mai conosciuto il padre morto in servizio da soldato. Andy fu portato in un orfanotrofio dove visse fino a tre anni. Poi, mossi da compassione, furono i nonni a prendersi cura di lui. Da ragazzino subisce bullismo e quindi decide di fare qualcosa per rafforzare il suo carattere. Così, a dieci anni, entra in una scuola di karate, ispirato dal suo personaggio preferito, il suo eroe, Rocky Balboa. Entrò sul tatami per non abbandonarlo mai più. Si allenava costantemente e seguiva i precetti del karate. Nessuno poteva immaginare che cosa avrebbe realizzato nella vita questo giovane ragazzo. A 15 anni gli fu concesso di partecipare al campionato nazionale di karate a contatto. Pensate che l'età minima era 20, ma vista la sua bravura per lui fu fatta un'eccezione. Vince il campionato, battendo facilmente avversari molto più grandi di lui. A 17 anni Andy aprì così la sua prima palestra. Iniziò a combattere a livello europeo sfoggiando un calcio del karate che letteralmente condannava i suoi avversari. Un ono gheri, oppure detto calcio ad ascia. Alla fine, a livello mondiale, verrà ribattezzato il calcio di Andy. Nel 1986 decise di concentrarsi sul karate e lasciò il suo lavoro che era in una macelleria. Oramai non riusciva più a lavorare 10 ore e poi allenarsi per altre 3 ore tutti i giorni. Abbandonò il lavoro e questa sua decisione venne ripagata molto presto. Già nel 1987 lo straniero dagli occhi blu, così venne soprannominato, partecipò al campionato del mondo di karate full contact che si tiene in Giappone ogni 4 anni. Andy Hug meravigliò il pubblico giapponese con la sua abilità, con i suoi colpi e naturalmente con il suo calcio ad ascia. Con 5 vittorie su 5 incontri fu il primo straniero a passare alla fase finale del torneo. L'incontro finale fu fra Andy e Matsuya Kiyoshi. Questo match è diventato un incontro che tutti continuano a guardare, ancora oggi. Hug era molto determinato in questo match e mostrò dei calci di alto livello e molte volte rischiò di abbattere il suo avversario in maniera spettacolare. Ma ad un certo punto però successe una cosa incredibile. Senza volere colpì il suo avversario con un pugno in faccia. Non era permesso dal regolamento e questo gesto gli costò il primo posto. I giudici infatti si rifiutarono di considerare l'idea che il colpo al volto sferrato da Andy potesse essere involontario, anche se poi di fatto lo era. Andy non la prese bene e invece di continuare si fermò per ben 4 anni. Cominciò ad allenarsi ancora più duramente incrementando così la sua tecnica. Ritornò a combattere nel 1991 contro Francisco Filo e qui perse. Ma questa volta non per una penalità, ma per un violento Mavashi, un calcio circolare alla testa che lo lasciò privo di sensi a terra. Un brutto cappone. Tuttavia però ci fu una discussione su questo verdetto perché il calcio fu scagliato da Francisco subito dopo il gong finale dell'incontro. Con il lancio della prima lega di karate professionistica nel 1992 Andy entrò nel torneo e si prese la sua rivincita. Gli avversari iniziarono a cadere letteralmente uno dopo l'altro. Decimò i migliori karateka al mondo che stavano scalando le classifiche e ottenne la vittoria. E presto le voci sul samurai dagli occhi blu iniziarono anche a incuriosire addirittura i giapponesi. Nel 1993 la carriera di Andy ebbe una vera svolta perché grazie ai suoi allenamenti la sua tecnica era diventata davvero di alto livello. Arrivò a sconfiggere in una rivincita alcuni avversari che aveva già incontrato in passato. Iniziò a combattere nella kickbox dimostrando che con la sua esperienza nel karate e la sua formidabile tecnica di gambe era perfettamente in grado di annullare completamente i suoi avversari. Nella seconda edizione del campionato di kickboxing Andy combatte contro Masaki Sataki senza guanti e protezioni adattandosi al regolamento di kickbox. Ma Andy era sempre al di sopra di tutti i suoi avversari. A quel tempo come oggi gli incontri finiti in pareggio si decretavano con il Tameshiwari ovvero l'arte della rottura. In caso di pareggio l'atleta che avrebbe rotto più mattoni avrebbe avuto la vittoria e quella sera la fortuna non era dalla parte di Andy. Andy non riuscì a rompere più mattoni del suo avversario ma nonostante tutto il pubblico aveva già capito chi era il più grande guerriero che avessero mai visto su un ring. Era Andy. Nello stesso anno Andy sposò Ilona, una modella che aveva conosciuto durante un servizio fotografico per uno spot pubblicitario. Furono una coppia molto felice. Andy dichiarò ufficialmente il suo matrimonio con la rottura di alcune tavolette con un colpo di karate fuori dalla chiesa. Arriviamo così a novembre del 1993. Hug iniziò alla grande nel K1. Il K1 era stato creato per annullare le distanze fra le varie discipline marziali e riuscire a far emergere il più grande combattente del pianeta. I biglietti finirono letteralmente in pochi minuti. Il primo combattimento fu contro Ryuji Murakami che era già stato battuto da Hug in un torneo di karate. Il K1 era un formato perfetto per Andy con la sua esperienza nelle arti marziali. Per lui quella era la formula perfetta. Adesso davanti a sé aveva due strade, una verso la cima e una lo avrebbe fatto cadere in basso. Secondo Andy non c'era altra scelta. Avrebbe dato il 100%. Così vedemmo il signor Murakami cadere. Poi toccò ad Eric Albert che subì una perfetta esecuzione di calci che lo fecero andare giù due volte prima di cadere K1. Nel 1994 si scontra contro un lottatore croato cattivissimo che faceva parte delle leggende del combattimento. Questo lottatore vinse facilmente addirittura contro Ernesto Oost. Fin dall'inizio della campanella Hug se la vide davvero brutta. Iniziò male l'incontro ma rimase in piedi. Poi Hug iniziò piano piano a far venire fuori il karateka che era in lui. Ed il croato ad un certo punto non sapeva più come contenere i colpi dello svizzero. Bronco, così si chiamava questo lottatore, riprese indietro tutti i colpi che aveva piazzato fin dall'inizio del combattimento. E se li riprese indietro con gli interessi. Una perfetta combinazione di calci che lo prendevano sempre in pieno, pugni veloci come fulmini. Queste tecniche diedero a Hug una vittoria sfolgorante. Verso la fine dell'incontro Bronco non sapeva letteralmente più come sopravvivere e si aggrappava continuamente a Hug. Era l'unico modo per fermarlo. Un Andy così devastante e tecnico allo stesso tempo non passò inosservato. Il samurai dagli occhi blu era ancora più forte di prima. Questo incontro decretò definitivamente che Andy era un avversario pericoloso per chiunque. Poco prima di dicembre, prima del torneo finale di kickbox, Hug ebbe il primo figlio. Il figlio prese il nome giapponese Saya. Andy era molto positivo, era allegro e si esibì in alcune demolizioni più memorabili di tutta la sua carriera. Andy vinceva e si portava a casa tutti i premi più importanti. Nessun avversario poteva fare niente, non c'era niente e nessuno che poteva contrastarlo. Nel 1994 si scontra contro Patrick Smith. Lo incontrò nei quarti di finale. Patrick aveva studiato lo stile di Andy e decise di imitarlo. Andy non era pronto a combattere l'ombra di se stesso e cadde al tappeto in pochi secondi. Ma la cosa brutta di questo incontro fu proprio Patrick che colpì Andy dopo la fine dell'incontro. Andy sul ring si scusò con i suoi fan per questa sconfitta e promise loro che non si sarebbe arreso. Promise di portare avanti il suo spirito del karate. Inoltre Andy rimase molto deluso dal comportamento di Smith che non chiese nemmeno scusa. Ma soprattutto rimase deluso dal comportamento dei giudici che ancora una volta non presero nessun provvedimento nei confronti di Smith, nemmeno un richiamo. Ma questo ci porta alla rivincita nell'evento K-1 Revenge. Naturalmente ci furono tuoni e fulmini sul ring. L'americano era deciso a umiliare Hug una seconda volta e sembrava davvero riuscire nell'impresa. Ma questa volta Andy non era d'accordo. Un calcio medio seguito da Unizza Gary segnò il fallimento definitivo di Smith ed Andy gli tolse definitivamente quel ghigno che aveva in faccia. Andy aveva restituito il favore ed era rinvigorito. Negli incontri successivi Andy distrusse tutti i suoi avversari. Duke Rufus che sarà un allenatore di UFC in futuro finì dritto nella lista delle persone asfaltate da Andy. Nel 1995 Hug raggiunse la supremazia assoluta incontrando Ernesto Oost. Andy aveva vinto il Grand Prix ben quattro volte e questa sua impresa verrà eguagliata solo dieci anni dopo. L'incontro si aprì con Andy che cercava di chiudere la distanza, avvicinarsi per colpire con i suoi famosi calci. Ma Ernesto Oost aveva altri piani e rese le cose difficili. Assaltava Andy con combinazioni taglienti e pericolose. Oost alla fine ebbe la meglio. Andy fu sconfitto. Ma questa non fu l'unica e l'ultima volta che i due combatteranno. Nello stesso anno Andy combatte altre due volte contro Mike Bernardo, un bravissimo combattente del Sudafrica con uno stile di combattimento deciso e risoluto. Tanto che riuscì a dominare anche il grande Peter Harz. Nel loro primo incontro tutta la stampa si incuriosì su una macchia che Mike aveva sui pantaloni e che nessuno riuscì a spiegarsi da dove poteva essere venuta. Andy fu colto di sorpresa. Iniziò a subire i tremendi pugni di Mike perdendo così l'incontro. La rivincita si svolse di nuovo al Grand Prix One. Ma questa volta Andy non riuscì a riprendersi la vittoria e con un destro da fare invidia a Superman Mike mise di nuovo giù Andy. Questa serie di sconfitte però costrisse Andy a rimettersi in discussione con se stesso e nel 1996 il Karateka ricominciò ad allenarsi con un solo obiettivo. Reclamare il titolo che per troppe volte oramai gli era sfuggito. In primavera la sua forma fisica era tornata al top. Salì sul ring e vinse in soli tre minuti. L'avversario nei quarti di finale era deciso ad interrompere la scalata di Hug ma questa volta Andy non era d'accordo e mise a dormire il malcapitato. Arrivò in finale troviamo una sua vecchia conoscenza Ernesto Ust. Ust per andare in semifinale mandò letteralmente in ospedale niente meno che Mirko Krokop che niente poté fare per opporsi alla furia di Ust. Appena messo piede sul ring fra i due si risveglia il vecchio attrito Andy iniziò a cercare la distanza per demolire Ernesto ma Ust cercava di impedirglielo a tutti i costi. Il samurai riusciva comunque a rispondere colpo su colpo. Andy iniziò a colpire la gamba arretrata di Ust che non si aspettava che facesse così male. Ust non riusciva a tenersi lontano per non subirla. Chiudeva in clincia e uscendo colpiva Andy con un pugno. Andy allora iniziò a fare la stessa tecnica. La battaglia andava avanti, avanti e avanti ancora e alla fine questi due colossi del combattimento dovettero prendere la decisione dei giudici che dettero la vittoria ad Andy. In finale ad attendere Andy c'era la sua vendetta contro Mike Bernardo. L'incontro nemmeno a dirlo iniziò in modo aggressivo. Bernardo molto deciso voleva distruggere subito Hug. Andy iniziò a sferrare dei calci devastanti, calci bassi, calci bassi e ancora calci bassi. Bernardo visibilmente sofferente impattò un calcio girato basso, subì una lesione importante, si accasciò e non ci fu più niente da fare. Mike era fuori combattimento. Hug era il campione indiscusso. Il samurai dagli occhi blu con questa vittoria raggiunse lo stato di un mito. Ringraziò tutti e ringraziò anche Mike Bernardo. Era soddisfatto. I suoi allenamenti erano stati sì duri, ma lo avevano portato in alto. Arriviamo al 1996 e troviamo un Andy Hug pronto a mettersi in gioco. Sfidò così Stan Longinidis per la cintura del titolo nel settore Thai Boxing. Naturalmente fu come al solito un vero e proprio festival di calci spettacolari e alla fine fu proprio un tremendo Mawashi insieme a un sinistro supersonico ad interrompere tutti i sogni di gloria di Stan. Dopo aver subito tutti questi colpi anche Stan entrò nella collezione dei demoliti da Hug. Andy aveva un regalo anche per Masaki, un incontro con il regolamento kickbox. In questo incontro non ci furono dubbi. Andy dimostrò una serie di ottime sequenze di box. Ma poi lo spirito di Van Damme si impossessò di Andy. Iniziò così a dare spettacolo con i suoi calci, mandando la folla in delirio. Di nuovo un calcio girato basso fece crollare letteralmente Masaki, che fu battuto in modo spettacolare. E così Andy portò a casa anche questo risultato. Lo stesso destino attendeva un giovane atleta giapponese, Musashi. Musashi sarà poi in futuro una futura icona della kickbox giapponese, ma quella sera con Andy sembrava solo un manichino d'allenamento. Collezionò una serie di colpi raramente visti sul ring ed Andy invece collezionò un'altra vittoria tecnica, finendo così in bellezza il 1996. L'inizio del 1997 fu però difficile per il samurai dagli occhi blu. La fama e i continui viaggi intorno al mondo non gli permettevano di dare il tempo necessario a se stesso e alla sua famiglia. Insomma, era costretto a passare molte ore davanti alle telecamere. Il risultato fu che il suo allenamento iniziò a rimanere indietro, ironicamente proprio come il suo idolo nel film Rocky III. Proprio come Rocky III, anche Andy Hoog iniziò a soffrire una popolarità che però gli regalò un'annata veramente instabile. Arrivò Peter Harz ad aprire le danze e approfittando dell'evidente calo di Hoog iniziò a colpirlo senza sosta. Hoog non poteva far altro che incassare e la punizione fu veramente dura per lui. E infatti Andy crollò in pochi minuti. Ma i guai per Andy non erano certo finiti. Incontrò di nuovo Francisco Filo che l'ultima volta lo aveva quasi ammazzato con un Mawashi alto, anche se era arrivato dopo la fine dell'incontro. Andy subì di nuovo un bruttissimo KO. Andy non era composto, combatteva in modo disordinato e realizzò troppo tardi cosa gli stava accadendo. Iniziò a deludere anche i suoi fan che non si aspettavano un Andy praticamente addormentato. Andy soffriva molto per questo dispiacere che stava regalando ai suoi fan, ma soprattutto soffriva per se stesso. Incontrò Sam Greco soprannominato il Bulldozer australiano. Sam voleva unirsi alla scia delle persone che riuscirono ad atterrare Andy. Andy in questo incontro iniziò a sferrare delle ginocchiate saltate, calci e numerose volte lanciò Sam al tappeto con delle proiezioni fantastiche. In qualche modo Andy ne uscì vincitore e sembrava aver recuperato qualcosa. Insomma, in qualche modo, grazie a questa vittoria riaprì la sua corsa al titolo. Ma ecco che si trovò di nuovo di fronte il temibile Mike Bernardo. Siamo al Gran Premio del 1997. Nelle prime fasi tutti si resero subito conto che la forza di Mike sovrastava abbondantemente quella di Andy. E naturalmente Mike cercò di approfittarne. Ad un certo punto Andy fu raggiunto da una bordata che avrebbe ucciso un toro. Andy si riprese e si rese conto che affrontare Mike in quel modo lo avrebbe solo condannato. L'incontro sembrava davvero volgere al peggio per Andy. Andy allora iniziò il round successivo con una nuova strategia. Iniziò a martellare le gambe di Mike come aveva fatto nel loro primo incontro. E fece una scelta giusta perché le cose piano piano iniziarono a migliorare. Riuscì in qualche modo a riprendere il controllo del match con delle bellissime combo. Alla fine Mike Bernardo non riusciva più a raggiungere Hug senza prendere troppi rischi che non erano necessari quella sera Andy non cercò il KO ma uscì vincitore per decisione unanime. Arriviamo così al più grande torneo dell'anno. Furono venduti ben 70.000 biglietti in una sola ora. Il campionato si svolse in autunno. Andy aveva recuperato alla grande. Salì sul ring come una macchina da guerra. Gli avversari non resistevano che una manciata di minuti di fronte a Andy. La formula era questa. Andy colpiva, gli avversari cadevano ed Andy avanzava verso la vetta. La sua scalata era inarrestabile. Con colpi alla dinamite nessuno poteva restare in piedi. Nei quarti di finale incontrò Satake e questo fu uno degli incontri più veloci di questo evento. Bastarono 15 secondi per piazzare un Mawashi, un calcio circolare alto che veniva direttamente da Marte per mandare in pensione definitivamente Satake. In semifinale si incontrò con Peter Hartz. Andy sapeva che Peter sarebbe stato un avversario molto difficile e così Andy cercò di legare molto durante il match per togliere spazio a Peter che iniziò a vacillare. Andy iniziò allora la solita festa dei calci bassi. Hartz se li subiva letteralmente tutti e Peter incassò davvero dei danni devastanti alle gambe e solo la campanella riuscì a salvarlo da un sicuro KO. Ma sul punteggio Peter Hartz non aveva proprio voce in capitolo. Andy si era vendicato regalandogli una dura lezione e così alzò le braccia da campione. Ma ecco che torna l'Apollo Creed di Andy, ovvero Ernesto Oost che era arrivato in finale con stile e meritando ogni singola vittoria. Ernesto arrivò in finale con molti meno round di Andy quindi era molto più riposato, più sveglio e meno provato. Andy invece purtroppo arrivò in finale con un piccolo infortunio alla gamba e non riusciva a combinare calci come era solito fare. Poteva solo colpire più lentamente e con poca forza. Ernesto se ne accorse e iniziò subito a sferrare dei colpi micidiali. I round diventarono un delirio da superare per Hug, tempestato letteralmente da Oost, ma Andy si rifiutava di andare giù. Andy ad un certo punto si svegliò e il suo spirito di karateka venne di nuovo fuori. Iniziò a pressare, a colpire e tornarono anche i suoi meravigliosi calci, ma il tempo era scaduto. Andy si era svegliato, è vero, ma troppo tardi. E l'occasione di vittoria non era più alla sua portata. Quindi nel 1997 uscì dal ring sconfitto, ad un passo dal titolo. La lunga permanenza di quattro anni del K-1 non era uno scherzo. Il K-1 era pieno di squali assetati di sangue, lottatori molto pericolosi e arrivò il momento per Andy di chiudere questo capitolo. Un Andy che a 33 anni partecipò a vari campionati che lo portarono a vincere ancora altri 21 incontri, di cui le chiuse ben 14 per K-1. Andy diventò il maestro di karate più ricercato e pagato al mondo per salire sul ring e diventò un eroe nazionale in Giappone. Arriviamo al 1998 dove Andy finalmente si riunì alla sua famiglia. Sua moglie e suo figlio erano rimasti praticamente da soli in America per quasi due anni e qui ritroviamo il samurai dagli occhi blu che come al solito, con sequenze davvero brutali, mandava talmente tanta gente al pronto soccorso che perfino i dottori del pronto soccorso oramai conoscevano la causa che aveva spedito i loro pazienti in corsia. Sapevano chi dovevano ringraziare per avere sempre così tanto lavoro. Tornò tutto al catalogo completo di tecniche di Hug, dalle ginocchiate ai calci bassi, il famoso calcio ad ascia, sequenze di pugni devastanti e combinazioni spettacolari. Andy vinceva ancora. E di nuovo la potenza di Andy sembrava davvero incontrastabile. Con un altro gran premio in vista alcuni lottatori furono letteralmente asfaltati da Andy, con una nuova tecnica che aveva messo a punto, con una serie di pugni rotanti. Hug si guadagnò l'ingresso alla scalata del titolo. Nei quarti di finale incontra Ray Sefo, famoso per i suoi calci e per essere un intrattenitore del pubblico. Il pubblico infatti si divertiva sempre a vederlo combattere e lui sfornava sempre delle tecniche molto spettacolari, proprio per far divertire il pubblico. Potente, veloce, in grado di demolire gli avversari in pochi secondi e infatti avrà una brillante carriera. Era capace di incassare colpi devastanti senza battere ciglio e a volte sembrava davvero fatto d'acciaio, non sembrava mai sentire il dolore. Ma torniamo ad Andy che se lo trovò davanti. Era un incontro non facile naturalmente e minuto dopo minuto l'incontro divenne sempre più caldo. Ray iniziava a aumentare il ritmo, ma trovava Andy che puntualmente alzava il tiro insieme a lui. Fu una brutta idea provare a fare il duro con Andy. La spavalderia di Ray Sefo svanì in un istante. In semifinale troviamo Sam Greco. Andy voleva questa volta risparmiare energia per le eventuali battute finali. Per fare questo impostò il combattimento dalla lunga distanza, evitando di stancarsi troppo e tornarono anche i pugni ruotati che gli avevano risolto molti incontri. E naturalmente il suo calcio ad ascia. Questa strategia funzionava alla grande, ma alla fine del secondo round Sam Greco colpì Andy dopo il suono della campana e lo mandò al tappeto. Andy si arrabbiò. Saltarono i suoi schemi e le intenzioni di Andy erano cambiate. Voleva punire Sam per quella mossa scorretta. Iniziò a pressare, ma allo stesso tempo stava sprecando energie preziose. Energie che gli sarebbero forse servite più tardi. Ammorbidì ben bene San Greco e vinse l'incontro senza trovare il capo. In finale troviamo l'Ivan Drago di Andy Hug. Troviamo di nuovo Peter Hertz, che era stato due volte vincitore del Grand Prix X. Peter, l'olandese, rimana nella storia come uno dei picchiatori più forti di tutti i tempi. E certo non c'è bisogno che lo presenti. Hug non poteva evitare di provare su di sé la potenza di Hertz, che reclamava vendetta dopo la sua ultima sconfitta. E con un calcio alto che veniva direttamente dall'inferno mise fuori gioco Andy. Peter con questo incontro collezionò la sua terza vittoria nel Grand Prix X. Ma Andy non aveva intenzione di fermarsi. Dichiarò in un'intervista, un samurai non si arrenderebbe mai e vi garantisco che non lo farò nemmeno io. La sconfitta e le delusioni di Hug lo portarono sul ring con un cambiamento di primordine, ovvero si tagliò i suoi baffi. Nel 1999 torna a combattere e si scontra di nuovo con Ray Sefor. Andy lo riempie di calci bassi e poi riuscì a chiuderlo all'angolo e con alcune potenti tecniche di gamba tolse il sorriso al Ray che andò giù. Hug così con questa vittoria non deluse il suo pubblico. Incontrò due grandi lottatori giapponesi che però vennero mandati in pensione prima del tempo a suon di calci girati. Quindi abbiamo un Andy di nuovo in pista, di nuovo un pericolo e di nuovo deciso ad andare lontano. L'avversario che probabilmente gli dette più problemi fu Stefan Lecco, un avversario manco a dirlo forte e pericoloso. Stefan iniziò a martellare Andy fin dall'inizio, ma non era lui il predestinato che avrebbe potuto piegare il samurai dagli occhi blu. E dopo aver preso un mavasci alla testa prima e una tremenda ginocchiata dopo, Stefan era a malapena in grado di reggersi in piedi. Andy poteva continuare la sua marcia prestigiosa, oramai temuto e rispettato nei ring più famosi del mondo. Arriviamo al 2000 e oramai il 35enne Andy Hug nei suoi incontri trovava atleti preparati e persone anche molto più giovani di lui, cosicché anche la nuova generazione di combattenti dovette subire la potenza di Andy. In aprile del 2000 Andy si scontra contro il brasiliano Globe Feitosa, che ebbe l'opportunità di sfidare la leggenda Andy Hug. Il brasiliano era un famoso karateka che avrà una carriera molto importante e diventò famoso anche nel K1 per i suoi calci potenti. E di incontri ne chiuse parecchi con questo suo marchio di fabbrica. Comunque questo incontro dimostrò una cosa, ovvero che non era ancora arrivato il momento di Globe Feitosa. Andy prese il centro del ring, iniziò il suo repertorio di tecniche pericolose, lavorava con calci bassi e buon lavoro di distanza. Andy era molto preciso anche con la parte alta, sfoggiando una box perfetta. E in più di un'occasione sembrò quasi andarci piano per non recare troppi danni al suo avversario. Feitosa si rese conto che Andy era fuori dalla sua portata e si accorse che Andy stava solo giocando con lui. Andy si limitò a finire il suo lavoro di precisione, dimostrando anche grande sportività. Ebbe così una vittoria schiacciante. Andy fece il sold out in Svizzera quando un 25enne Mirko Krokop si trovò di fronte a lui. Mirko, il lottatore croato che non ha certo bisogno di presentazioni, a quel tempo aveva una tecnica di gambe micidiale. E molti avversari erano caduti con i suoi calci, ma Andy era un'altra cosa. Andy calciava come un toro ed ogni calcio era un potenziale KO. Questo fu uno scontro epico. Andy iniziò a martellare le gambe di Mirko per indebolirlo. Mirko non la prese bene e iniziò a caricare Andy con combinazioni di pugni al tritolo. Andy si adattò subito e iniziò a restituire tutto indietro al mittente. Il croato continuava a picchiare duro, ma iniziava a essere meno sicuro ogni volta che Andy si avvicinava. Le certezze stavano crollando. Schivò a malapena alcuni colpi che lo avrebbero mandato a casa prima del tempo, ma alla fine una conclusione tardava ad arrivare. A metà dell'incontro Hug iniziò a lavorare Mirko anche al corpo. Facendo questo si apriva la strada per il suo calcio ad ascia. Mirko riuscì a salvarsi miracolosamente da questi calci, ma al quarto round l'angolo di Mirko si rese conto che sarebbe stata solo una questione di tempo. Così Mirko cambiò strategia e decise di dare il tutto per tutto. Caricava cercando il colpo fortunato, ma di fronte a lui non c'era una persona normale, ma c'era Andy, che resse all'assalto. Fu un combattimento bellissimo. La potenza di fuoco di Krokop sembrava illimitata, ma non fu comunque sufficiente a piegare Hug e il suo spirito da samurai. Quella sera Andy mise fuori gioco Mirko Krokop che nemmeno con tutta la sua forza e determinazione era riuscito a scalfirlo. E vinse con decisione unanime. Nel luglio 2000 Hug torna sul ring e i suoi colpi esplosivi erano ancora caricati a molla. Come sempre ci aveva abituato. La folla oramai riconosceva benissimo quando un colpo di Andy sarebbe stato l'ultimo e in anticipo poteva addirittura esultare già prevedendo quale sarebbe stato il colpo finale sferrato da Andy. Andy arrivò al mirabolante record di 37 vittorie delle quali 21, tutte per KO. Ma uno come Andy non poteva certo accontentarsi di un medagliere così, anche se era senza dubbio un medagliere dal record. Iniziò di nuovo ad allenarsi pensando di concludere la sua carriera partecipando al suo ultimo Grand Prix. E lo voleva fare alla grande, lo voleva proprio vincere. La sconfitta per Andy non era contemplata. Ma purtroppo i suoi piani non sarebbero mai stati realizzati. Durante uno dei suoi ritorni a casa Hug ebbe un attacco di febbre a 40 e durante la notte perse molto sangue dal naso. Andò in ospedale ma i dottori lo rassicurarono. Non era niente. Ad agosto però Andy andò in Giappone e i dottori giapponesi gli diagnosticarono una forma grave di leucemia. Non c'era tempo da perdere. Andy era veramente in serio pericolo di vita. E il 22 agosto Hug scrisse una lettera ai suoi fan. Credo che rimarrete scioccati quando sentirete la notizia della mia salute. Questa malattia è l'avversario più forte che abbia mai affrontato. Ma vincerò. Diventerò più forte. Grazie al vostro sostegno combatterò come se fossi sul ring e batterò questo terribile avversario. Tornerò di nuovo fra voi un giorno. Non perdete la speranza. Grazie a tutti voi. Andy Hug. Questo messaggio purtroppo però si rivelò un addio. Dopo soli due giorni Andy cadde in coma e il 24 agosto il suo cuore si fermò. L'ospedale tentò in tutto e per tutto di impedire alla morte di prendere Andy e per ben tre volte i dottori riuscirono a far tornare il cuore di Andy. Per ben tre volte. Ma alla quarta volta lo lasciarono andare. Andy aveva solo 35 anni. Al suo funerale in Giappone parteciparono 13.000 persone. C'erano i suoi fan, c'erano tutti i compagni di ring ed era presente anche il presidente della Svizzera. L'annunciatore dal ring chiamò il nome di Andy per l'ultima volta. E il sipario si chiuse. Soltanto pochi combattenti diventano leggende ma Andy Hug rimarrà per sempre nei cuori di tutti i praticanti di arti marziali. Un vero samurai, un vero guerriero senza paura. È arrivato in cima, è caduto, si è rialzato, è andato avanti, ha dimostrato coraggio, onore e determinazione. Andy ha fatto breccia nei cuori di tutte le persone che lo hanno conosciuto. Andy ha dato tanto alla sua arte marziale che amava. E tutto questo rimarrà scolpito nella pietra per sempre. Riposa in pace, samurai dagli occhi blu.